Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con l'appuntamento del pre-23 giornata di serie B In questo caso pre-23 giornata di serie B Il cosa aspettarci da questa giornata Si arriva da un turno importante che ha dato risultati importanti come quello appena passato Ci saranno altrettanti match importanti in questo nuovo turno di serie B Come sempre andiamo ad analizzare partita per partita Un po' di parole da spendere su tutte le gare per inquadrare il match che ci aspetteranno da venerdì a domenica Con l'ultimo match che sarà Parma-Genua alle ore 16.15 Mi raccomando però prima di partire col video vi devo chiedere un pollice nel suo video 30, 40 mi piace qua sotto, un'iscrizione al canale totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando iscrivetevi non vi costa nulla In questo canale si parla di serie B a 360 gradi E' l'argomento principale di questo canale YouTube E noi ragazzi partiamo subito Partiamo da Modena Cagliari che sarà l'anticipo di venerdì ore 20.30 Una partita importantissima per capire a che punto è questo Cagliari Nel senso che ha vinto un'altra partita Ranieri non ha mai perso da quando è arrivato Ha fatto due vittorie e un pareggio Sette punti, squadra sesta in classifica Quota 32 a meno 8 dal secondo posto Occupato dal Genoa Si vuole avere ancora la speranza di recuperare punti sulla seconda in classifica Ovvero sull'obiettivo primario, promozione diretta Il Cagliari deve vincere questa partita Contro una squadra sicuramente ferita come il Modena Che arriva da una sconfitta di misura Uno contro la Ternana Avendo fatto un buonissimo secondo tempo Non sarà facile Più che altro perché il Modena gioca in casa E quindi il fattore campo può fare la differenza Ma se il Cagliari vuole sperare di mantenere accese le speranze Promozione diretta E' obbligato a vincere al Braia Cittadella Ascoli ragazzi E' il primo match di sabato alle ore 14 E' un match complicatissimo Delicatissimo In ottica salvezza Perché l'Ascoli con gli ultimi risultati Si è ributtato giù in classifica Nel senso E' dodicesimo comunque Ma ha solo 26 punti E il Cittadella che è sedicesimo Ne ha 24 Si passano due punti Si passano anche quattro posizioni per l'assurdo Questo vi fa capire quanto è corta La classifica di Serie B Se il Cittadella vince esce un po' da questa brutta situazione di classifica Invece l'Ascoli viene preso in questa brutta situazione di classifica Ed è per questo che è un match totalmente delicato Io come già dico da qualche settimana Il Cittadella che ho visto dopo la sosta E' un Cittadella rinato Gli acquisti nuovi hanno fatto bene a questa squadra Hanno portato sicuramente gente valida Gente con mentalità nuova, fresca Che sicuramente ha fatto molto bene al gruppo Che ne ha comunque risentito anche sul campo Con due pareggio e una vittoria Nelle ultime tre partite Quindi ho visto un Cittadella sicuramente rinato Così come ho visto Un Ascoli totalmente sotto tono E' una partita molto delicata per l'Ascoli Perché se dovesse perdere Sarebbe la quarta sconfitta Nelle ultime cinque Con un solo punto fatto E inizierebbe a farsi complicato Il futuro di Bucchi E quindi un match totalmente delicato Spal Cagliari Altro match di sabato alle ore 14 Questa è una partita bella Molto molto bella Perché forse vedremo l'esorto di Nenangolan Con la Spal Almazza Una Spal chiamata a fare punti salvezza Perché quindicesima quota 24 punti Un punto raccolto solo nelle ultime due partite Dista solo di un punto Il terzo ultimo posto E quindi la squadra è obbligata a fare punti Se vuole sperare Di rimanere per lo più lontana Dalle zone rosse di classifica Non sarà facile Come ho già detto tanto tempo fa La Spal è una squadra che lotterà Fino all'ultimo Secondo me Per una retrocedere Affronterà un Bari ferito Tanto ferito Perché ha raccolto contro il Perugia La seconda sconfitta consecutiva Una sconfitta molto pesante Quella contro il Perugia Arrivata tramite una prestazione Non di livello Da parte del Bari Vediamo cosa daranno i nuovi acquisti Da Benaglia a Molina Vediamo se saranno schierati Da Sebastiano Esposito Un mercato di gennaio Sicuramente di livello Quello del Bari Però Una squadra che si deve rialzare Perché ha fatto solo tre punti Nelle ultime quattro E sicuramente non va bene E quindi è un match importante Chi deve fare punti per la salvezza La Spal Chi deve rimanere aggrappato Il treno playoff E non farsi recuperare Dalle squadre che stanno inseguendo Ovvero il Bari Altra partita Importantissima Benevento-Venezia Ragazzi Si giocherà anche questa di sabato All'ora e quattordici Un match solo Ed esclusivamente targato Salvezza Se fino a qualche anno fa Benevento-Venezia Le vedevamo in Serie A Quest'anno ci stanno Ci stanno Ci stanno facendo vedere Un campionato Sicuramente non all'altezza Per le rose Abbiamo un Venezia Che si è totalmente Rifondato Nel senso Ha rivoluzionato la rosa Nel mercato di gennaio Vedremo i nuovi acquisti Tanti nuovi acquisti Anche all'azione Sicuramente Gli ultimi coppi Quelli arrivati Per lo più Negli ultimi giorni di mercato E quindi un Venezia Che è chiamata A vincere la partita Se vuole respirare un po' E non rimanere In diciannovesima posizione Al penultimo posto Ultimo comunque A pari punti Con il Cosenza E Benevento è chiamato A fare punti Disperatamente Perché sono solo Due punti raccolti Ne ultime cinque Una squadra che fa fatica A segnare Subisce gol E Cannavaro Secondo me Inizia a essere anche Un po' in bilico Banoli Lo vedo un po' Più dentro Il progetto Venezia Una partita delicatissima Chi vince Respira Chi perde Ragazzi Farà Farà poi la settimana seguente Veramente in un clima Molto molto brutto Perché vorrebbe dire Proprio ultime posizioni Ultime posizioni Ed un match delicatissimo Scontrato dire Che il pareggio Non serve a nessuna Delle due Perugia-Brescia Una partita anche questa Targata salvezza Perché il Brescia Nelle ultime gare Ci sta dicendo questo Una squadra totalmente in crisi Una squadra che ha fatto Tre sconfitte consecutive 25 punti Per l'appunto Solo i due punti Dalla sua diretta concorrente Che sarà il Perugia E giocherà in casa Il Perugia Renato Curi Quindi sarà ancora un match Ancora più delicato Per il Brescia Se il Perugia ragazzi Vince supera il Brescia Questo fino a 7-8 giornate fa Sembrava impensabile Ma questo vi fa capire Quanto il Perugia di Castori Sia cresciuto E quanto il Brescia Sia calato soprattutto Negli ultimi mesi e mezzo Barra due mesi I nuovi acquisti Hanno portato qualcosina di nuovo Soprattutto Rodriguez Listrovski E Bjorkengrin Però è una squadra Il Brescia ancora troppo Troppo acerba In incognito Fa fatica a fare gol Ne subisce tantissimi Sono 31 gol subiti Affronto una squadra invece Che sta in netta ripresa Come il Perugia Che è migliorato Molto il livello fisico A Bari ha fatto Una partita perfetta Può andare Sull'onda dell'entusiasmo E vincere questa gara Se il Perugia vince Contro il Brescia Per me dà un segnale Importantissimo In chiave salvezza E credo che il Perugia Tra quelle che sono sotto In questo momento È quella che vedo meglio In ottica salvezza Fino alla 38esima Giornata del Brescia È chiamato disperatamente A non perdere questa gara Cosenza Ternana Sabato anche loro Alle ore 14 Vedremo un po' A che punto è questa Ternana di Andrea Zoli Che sta piano piano Macinando Comunque riguardo La seconda vittoria In tre partite È stata una vittoria Importante Soprattutto ha fatto 20 minuti di livello Altissimo La Ternana Contro il Modena E quindi sono curioso Di vedere Affronterà una squadra Che sicuramente Sarà un po' La rivalsa Ovvero il Cosenza Che vuole dare Un minimo di continuità Alla vittoria Contro il Parma Casalinga Per 1-0 Arrivato il neacquisto Zarate Il colpo Dell'ultimo Last minute Del 31 di gennaio Del presidente È stato Mauro Zarate 35 anni Vediamo quello Che potrà dare Sarà magari un batti L'arrivale 2.0 Però sicuramente Il Cosenza È chiamato a fare Punti salvezza Il La Ternana Deve consolidare Un posto Nei playoff Andiamo avanti Su Pisa Sul Tirol Ragazzi Il Pisa Sul Tirol È uno scontro A tutti gli effetti Di alta classifica Perché il Sul Tirol Arriviene dalla terza Vittoria consecutiva Contro la Regina Per 2-1 L'85esimo Con l'ottavo Golio Dogu Ed è un Sul Tirol Che dà l'impressione Che possa fare punti Su tutti i campi A maggior ragione In un campo Come difficile Come quello di Pisa Deve provare a fare punti Se vuole Perlomeno rimanere A una distanza Non troppo ampia Con il Genoa Che secondo in classifica Se pensate Che se il Sul Tirol Vince Andrebbe a quota 38 punti E magari Genoa e Regina Non fanno punti Il Sul Tirol sarebbe A 2 punti Dalla zona Promozione diretta Questo Sembrava impensabile Dopo le prime 3 partite Dove il Sul Tirol Aveva raccolto 0 punti Affronterà Per un Pisa Che è chiamato A vincere Perché nelle ultime 3 partite Solo 2 punti Con 2 pareggi E una sconfitta Mi aspetto Una reazione importante Della squadra Di Luca D'Angelo Che in casa Vorrà imporre il proprio gioco Vincere Per consolidare Un posto nei playoff Sarà sicuramente Una bella partita Così come sarà Una bella partita Come Frosinone Sabato A ore 16.15 16.15 La capolista La capolista Chiamata A continuare La sua marcia Per lo più Quasi perfetta Con 48 punti A più 8 sulla seconda A più 9 sulla terza E Frosinone Se vince anche questa gara Super a quota 50 punti Sarebbe la quinta vittoria consecutiva Sarebbe Inizierebbe Ad essere Un bottino Molto molto importante E non sarà facile Perché comunque Il Como È già da un po' Che ve lo dico È una squadra in crescita L'ultima vittoria Lo dimostra Ha fatto 4 punti In ultime due partite Moreno Longo Sta piano piano Incidendo su questa squadra E il Como Deve comunque Ancora raccogliere Tanti punti Per trovare Una posizione Una posizione Di classifica serena Perché ci vuole poco In questa Serie B Ad essere risucchiati Nelle zone Brutte Nelle zone calde Nelle zone rosse Palermo Regina Domenica A ore 16.15 Match importantissimo Per la Regina Vediamo se reagisce bene Alla sconfitta Di Bolzano 2-1 E vediamo Quanto questo Palermo È veramente cresciuto Perché sta facendo risultati E non A quota 31 punti 3 vittorie Nelle ultime 5 Tanti punti raccolti Nelle ultime 5 È una squadra in crescita Con un mercato di gennaio Che comunque Ha portato colpi importanti Come tutti i Nevere Vuole sicuramente Tenersi aggrappato All'ottavo posto Che è l'ultimo posto Disponibile per i playoff E quindi un Palermo Chiamato a fare risultato In casa può farlo tranquillamente Conto però Per l'appunto Una Regina ferita Che ha raccolto Contro il Sud Tiro Alla seconda sconfitta Nelle ultime 3 Solo 3 punti Nelle ultime 3 E quindi sarà chiamata La Regina a fare punti Perché non deve perdere Troppo di stacco Dal secondo posto Ovvero Sogno Promozione Diretta Sarà una grandissima partita Chiuderà Parma Genua Altro big match Di giornata Vediamo questo Parma Se prova a dare Un minimo di continuità Nel senso Un po' di reazione Perché la sconfitta Di Cosa è stata Molto pesante Aveva vinto contro il Perugio Per 2 a 0 Il Parma è una squadra Totalmente con un punto interrogativo Enorme ragazzi Ci dice veramente poco Può fare una buona partita Così come non può fare una buona partita Può perdere contro chiunque Come può vincere contro chiunque È veramente un punto interrogativo enorme Una squadra che a tratti Sembra molto demotivata A tratti invece Sembra che possa fare La partita perfetta Fronterà una squadra Come il Genoa Che deve consolidare Il secondo posto In classifica Deve riprendersi Dopo il pareggio Interno Contro il Pisa Per 2 a 0 Dopo non aver sfruttato La superità numerica Per più di mezz'ora E quindi Un match delicato Se il Genoa vince Consolida il secondo posto Se il Parma perde Ragazzi Potrebbe vedersi Allontanare ancora di più La zona Playoff Pollicione su al video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi